Ben ritrovati a questo secondo video della miniserie sul servizio cloud di Cofr, nel quale, come potete vedere dal titolo di questo articolo accompagnatorio, perché ormai più che una scaletta, questi video sono accompagnati da un rispettivo articolo dettagliato, quanto vi racconto brevemente nel video, ed eccoci qua, quindi che dopo l'introduzione parliamo di come ci si iscrive e le funzionalità che offre questo servizio di cloud Cofr. Dunque, come iniziare? Beh, sul sito principale di Cofr vengono offerte tre modalità, essenzialmente tre modalità di iscrizione, quindi spostiamoci un attimo qua, ecco qua, vediamo un po' se il sign in... No, ho proprio schiacciato quello che non dovevo. Get started, vediamo un po', eccoci qua, è qui che volevo arrivare. Get started dove si dice ovviamente create an account, create un vostro conto Cofr, se già non l'avete, se no fate il sign in, avevo schiacciato il link sbagliato. Dunque, qui vedete che sono presentate in questo, diciamo così, sito rinnovato, nelle pagine del sito rinnovato, sono presentate due opzioni per creare l'account, o sfruttate il vostro account esistente Google, se l'avete ovviamente, o usate un vostro indirizzo email, indipendente da Google, eccetera, eccetera, o non necessariamente l'email corrispondente a Google, per crearvi un account. Ecco, perché parlo di due possibilità e invece nel mio articolo parlo di tre, perché finché il sito di Cofr si presentava, diciamo, nella vecchia modalità, a questo punto, in realtà erano tre le possibilità di iscriversi. Quindi io ve le documento tutte e tre, non so se perché temporaneamente la terza possibilità via account Twitter, che è quella che manca qui nella pagina, c'è solo Google e l'email, in realtà in precedenza, non molto tempo fa, fino a non molto tempo fa, era possibile anche accedere via Twitter. Non so se perché non è ancora finito il passaggio alla nuova versione del sito e quindi manca il pulsante per Twitter, o se, non lo so, se ci sia qualche problema temporaneo con l'accesso via Twitter, comunque io ve lo documento nell'articolo qua, che vi lascio, come per il precedente video, nella descrizione di questo video, vi lascio ovviamente questo articolo da leggere tranquillamente. Dunque, dice, ci sono tre modalità, uno appunto con un vostro indirizzo email personale, poi qui spiego come si fa, la seconda possibilità, accedere mediante l'account di Google, la terza possibilità, che al momento vedo non è presente, ripeto, mediante l'account di Twitter. Ecco, queste tre modalità hanno comunque la caratteristica in comune che si basano, che hanno, diciamo, fra le loro proprietà, sempre un indirizzo email, perché in fin dei conti è quello che fa da Stato come user, come username. E infatti, se accedete, se... no, se sia per il vostro account Twitter, che per il vostro account Google, che per l'indirizzo email che decidete di utilizzare, utilizzate sempre quello, sempre lo stesso indirizzo email, potete accedere in tre modalità diverse, e accederete sempre al vostro medesimo account coffer. Se invece, per dire, per fare un'ipotesi, accedete con un indirizzo email vostro, poi accedete con un account Google, cioè create un account, chiedete a coffer di crearvi un account con un indirizzo email diverso per queste tre opzioni, avrete in realtà creato tre account diversi, tre conti diversi sul cloud di coffer, perché ciò che distingue un conto dall'altro è proprio l'indirizzo email. Quindi fate attenzione rispettivamente, vedete voi cosa volete fare, ovviamente di solito se ne crea poi uno perché serve un account, però se non volete creare un altro per usarlo per altre cose potete farlo. Basta che sia diverso l'indirizzo email, e qui lo spiego in questa nota. Poi, cosa succede una volta che si è iscritti? Quindi, anzi, quando si è proceduto all'iscrizione, qua alla pre-iscrizione, arriva un'email di conferma da parte di coffer che vi posso mostrare, tipo questo, per esempio a me è arrivato questo, come sempre in inglese, questo l'ho già spiegato, e vi dicono, ok, benvenuto, qui get started per partire, vi spiegano un po', vi fanno arrivare sulla login, adesso che avete creato l'account, il link per accedere al portale del cloud, al vostro spazio disco in cloud è questo, vi dicono che vi siete iscritti con il vostro email, quindi ve lo confermano, eccetera, eccetera, poi vi dicono che ci sono le varie app per i dispositivi mobili, delle tre piattaforme principali, eccetera, eccetera, vi danno il loro link di contatto, come seguirli su Twitter, eccetera, ecco, un mail tipo questo di benvenuto con qualche informazione per iniziare ad usare il vostro spazio cloud immediatamente. Ecco, una volta fatto questo passo, appunto, vi ritrovate finalmente nell'interfaccia web, la prima cosa che utilizzate di cofre è l'interfaccia web, perché quella, l'interfaccia con voi come utenti principale del cloud è sul web, anche se poi fra un attimo vediamo che c'è anche un programma client, quindi che risiede sul vostro dispositivo, sul vostro pc per sincronizzare i dati dal vostro pc locale verso il cloud e viceversa, eccetera, eccetera. Ecco, l'interfaccia allo stato attuale si presenta così, ecco, praticamente cofre si presenta come un file system remoto, quindi nel cloud, che simula il vostro file system locale, se volete, gestito a cartelle, queste qui per esempio, questa è una cartella, navigate, questi sono i file, qui in alto a destra vedete il vostro account, con cosa siete connessi in questo spazio cloud, con varie opzioni, qui vi da la quota, per esempio, di spazio che avete utilizzato, in questo caso ho 0% perché sto usando un account demo, ne ho creato uno in più oltre al mio effettivo, giusto per questi video, vedete 0, penso che nel fumettino nero riusciate a vedere nel video registrato, 0 barra 2 gigabyte, perché i 2 gigabyte sono senza costo, cioè appena create un account su cofre, ottenete 2 gigabyte di spazio disco che non pagherete mai, l'avrete per sempre, non a scadenza, e sono 2 gigabyte a vostra disposizione, completamente free, senza costi, niente, appena lo create, appena vi scrivete, 2 gigabyte, e ovviamente vedete che in questo mio account demo non ho salvato praticamente nulla, sto occupando 0%, voilà, questa è l'interfaccia, come si presenta all'entrata, come ho detto già nel video precedente, questi servizi sono costruiti in modo da essere semplici, intuitivi da usare, non c'è molto da spiegare, se non qualche icona che poi è intuitivo, vedete questa forma di cestino è il cestino, qua in alto c'è una pulsantiera dove potete scegliere le operazioni che volete fare su una cartella o su un file, qui sulla sinistra potete selezionare uno o tutti i file e cartelle, come vedete, a seconda di cosa fate contestualmente la pulsantiera sopra cambia, ma questo potete vederlo appunto voi con tutta tranquillità, avete 2 gigabyte gratuiti, concedetevi un account soffre, fate il vostro giro, cliccate qua e là, potete, ripeto, come già vi ho mostrato rapidamente, verso la fine del primo video, avete un blog dove spiegano le cose, avete le feature dove spiegano le cose, avete i contatti, help per delle spiegazioni più dettagliate, avete il sito di help, vedete, vi spiegano tutto, per ogni tipo di applicativo che è di connessione, che ha a che fare col servizio coffre, qui avete tutto spiegato, vedete anche il desktop client, come fare installarlo per ogni tipo di piattaforma, che sia Windows, Linux, quello che volete, Mac, eccetera, eccetera, vedete, per Mac, poi arriva quello per Linux, per tutte le piattaforme c'è il software dedicato, vi spiegano tutto, tutto, non ho bisogno di spiegarvi nulla, io, se avete difficoltà con l'inglese, ricordatevi che il Google Translator aiuta, potete mettere l'URL in Google Translator e ottenete la pagina tradotta in modo sufficientemente decente per comprendere il contesto, ecco. Quindi avete tutte le possibilità per andare a visitare l'interfaccia in ogni sua parte, capire cosa serve, cosa fa questo pulsante piuttosto che un altro, ecco. Dunque, una volta arrivati qui vi siete appena iscritti, quindi torniamo al nostro articolo, cosa fate come prima cosa? Se vi interessa sincronizzare il vostro file system locale, quindi il vostro disco sul vostro PC con le vostre informazioni, con i vostri documenti, volete sincronizzarli per salvarli in modo sicuro, avere una copia di backup sul vostro spazio cofre, la cosa che dovete fare, naturalmente non è il portale web che fa questo lavoro, ma è un programma client, quindi che dovete installare sul vostro PC, sul vostro dispositivo. Allora, come si fa? Ed è scritto nell'help che vi ho mostrato un attimo fa, comunque dal portale web ci sono i pulsanti sia per accedere ai vari store delle piattaforme mobili per installare le app sul vostro dispositivo mobile, quindi se volete anche da lì salvare le vostre foto, i vostri video, dal vostro telefonino su Coffre potete installare le app dedicate e poi vedete Coffre per il desktop, qui c'è la simbologia delle tre piattaforme principali Windows, Mac e Linux. Fate clic, lui Coffre si accorge il portale web su quale sistema operativo state lavorando, se io faccio clic mi scarica direttamente l'app per Linux, ovviamente perché sa, riconosce che sono su Linux, ma sta scaricando il setup e voilà che l'ha scaricato. Una volta scaricato il setup, eccolo qua, è un archivio compresso, vi ho spiegato tutto nell'articolo e vi apro solo l'archivio compresso per mostrarvi che il contenuto è questo e c'è l'installer, ecco. Se torniamo all'articolo vedete che dico installate il programma client sul vostro pc, aprendo un terminale, questo è il caso di Linux, poi delle altre piattaforme non ho guardato ma ci sarà per Windows il solito setup avanti avanti eccetera eccetera. Comunque per quanto riguarda Linux, allo stato attuale è uno script bash che si fa partire nel terminale, qui vi spiego tutto e si chiama installer sh, quindi lo vedete qui, l'ho solo aperto e giusto per mostrarvi che vi ritrovate nella cartella dove decomprimete questo archivio compresso lo script per installare, fa tutto lui, fa tutto lui questo script, adesso qui ovviamente io l'ho già installato, fa tutto lui e vi ho messo qui anche un esempio di output per mostrarvi che una volta partito vedete l'installer sh fa una domanda, vedo, vi chiede se volete cambiare destinazione di installazione voi potete anche rispondere di no perché va bene la standard, fa tutto lui e alla fine voilà è fatto, avete installato il vostro client che vi permette di configurare ripeto la sincronizzazione non solo dei vostri dati. Poi per avviare il client lo cercate nella dash, normalmente un programma su questo caso su Ubuntu normalissimo, aprite la vostra dash, cercate cofre e vi appare sempre questo tema verde, cofre lo riconoscete anche da questo tema con queste tonalità di verde, eccolo qua, questa è l'icona del client, lo potete far partire da lì e il client si presenta così, eccolo qua con in alto a destra il setting del client, vi ripresenta i dischi connessi, i servizi di cui parleremo fra un attimo, c'è anche qualche opzione di setting e qui vedete ecco questo qui è il client effettivo mio, vedete tutte le cartelle che ho messo da sincronizzarle, le vedete qui, come tutte sincronizzate, anche un place di cui parlerò fra un attimo, quindi da questo client gestite tutte le sincronizzazioni che potete fare con il servizio cofre. Torniamo rapidamente all'articolo dove parlo anche di dettagli importanti ma comunque dettagli tipo una volta che il client è partito dove lo vedete specificatamente in Ubuntu c'è un indicatore sul pannello, eccolo qua, vedete che riprende sempre il simbolo di questa cartellina, qui è verde e qui no, perché ho deciso di non mostrarla colorata, comunque questo qui è l'indicatore del client che sta girando, che è attivo sul mio sistema operativo, questo è cofre che sta funzionando e lì è che appena io modifico qualcosa di un file in una cartella sincronizzato o aggiungo nuovi file o ne tolgo, questo client sincronizzerà la situazione sul mio spazio cloud, eccolo qua. Poi le modalità di pagamento, quindi si paga annualmente, l'account è gestito esclusivamente sul portale web, quindi non attraverso il client, questo lo possiamo anche vedere, l'account è questo, upgrade account, lo vedete qui, in questo caso è il mio account demo, come ho detto, quindi ho fatto solo l'iscrizione senza acquistare effettivamente spazio nel cloud e i 2 GB sono free, li vedete qui, 2 GB free, qui potete fare l'upgrade, qui ci sono i vari piani di spazio e prezzo, dopo i 2 GB a 0 euro ci sono fette, potete acquistare, scusate, uno spazio di una fetta di 10 GB per 6 euro all'anno, 25 GB per 12 euro e così avanti e avanti, fino ad un massimo di 1 TB per 180 euro all'anno, pagamenti solo annuali e questi sono i prezzi. Andiamo un po', non esiste nessuna limitazione nella grandezza, nel tipo di file, ci sono le applicazioni smartphone di cui abbiamo già parlato, le interfacce sono in inglese, l'ho già detto, c'è anche la possibilità per chi è interessato, per chi è più vicino all'ambiente di sviluppo, sviluppatore software intendo su GitHub o GitHub, ci sono anche i codici sorgenti di alcuni moduli software sviluppati dall'azienda COFRE per creare il client, eccetera, eccetera, quindi anche open source, questo servizio offerto da questa azienda è anche basato su codice sviluppato, open source, quindi anche verificabile, questo non è male. Poi le funzionalità di COFRE in dettaglio, ho suddiviso questo articolo, questo dettaglio in programma client e in portale web, quindi qui potete leggere riassunte, raggruppate le varie funzionalità con un dettaglio per capire come funziona, potete provare appunto quando decidete di iscrivervi e di indagare sull'interfaccia le varie funzionalità, approvarle, eccetera, eccetera. Ecco, il client, due parole, magari ancora prima di andare oltre, si sincronizzano le cartelle, ovviamente questo è il compito principe di tutti i client di questi servizi, queste sono le sincronizzazioni, per creare la sincronizzazione si clicca qui, è tutto guidato, è tutto spiegato, tutto ben spiegato passo a passo, voi scegliete la cartella del computer come primo passo, fate next, qui vi presenta il file system del vostro spazio in cloud su cofre e dovete scegliere una cartella che corrisponderà a quella del pc che volete sincronizzare, quindi se non ce l'avete potete crearla direttamente da qui, poi fate ancora next, adesso non lo faccio perché non voglio crearlo veramente, fate ancora next, una conferma e la sincronizzazione è pronta. Quando è verde, connesso vuol dire che sta funzionando la sincronizzazione, se in una qualsiasi di queste cartelle sul disk computer, che è poi il mio computer locale, se cambio qualcosa, lui riflette il cambiamento direttamente su cofre e sul file system replicato su cofre. Qui vedete places, che è un altro tipo di sincronizzazione molto interessante, che trovo molto interessante di questo servizio, che è la sincronizzazione, scusate, la connessione a cartelle locali del proprio pc, che si chiama appunto siti o places, io ho tradotto in siti io, è un tipo diverso, non è una sincronizzazione, attenzione, è una connessione, quindi voi potete sia sincronizzare le cartelle che volete, ma se volete semplicemente accedere a quelle cartelle attraverso il portale web di cofre, quindi da tutto il mondo, voi lasciate acceso il vostro pc e questa cartella, per esempio, del mio pc, è connessa a questa cartella su cofre e, attenzione, non è sincronizzata, i dati restano locali sul vostro pc, il cofre fa solo da tramite, un po' come fosse un'interfaccia web NAS, fa da tramite e vi permette di accedere al vostro disco locale del vostro pc che è acceso a casa vostra, da qualsiasi parte vi trovate, via il portale web. Questi sono i places. Ecco, questa è una bella caratteristica, se sono stato magari poco chiaro in questo momento a spiegarvi, qui vi ho messo tutto il dettaglio descritto e non dimenticate mai che c'è sempre l'help sul sito web che vi ho mostrato prima, c'è sempre l'help, anche se in inglese, che spiega tutto anche queste cose. Quindi avete due modalità di accedere ai vostri dati salvati sul vostro pc, uno è sincronizzare, quindi far proprio una coppia fisica dei vostri dati nello spazio cloud, l'altro è connettere le cartelle locali che per un qualsiasi motivo non vi interessa salvare sul cloud, caricare sul cloud, ma solo accedere. Ovviamente, come ho detto, dovete tenere acceso il vostro pc, perché se è spento le risorse del vostro pc non sono accessibili. Come ultima cosa, a livello client, vi indico anche che c'è un'estensione per il browser Chrome e Chromium, allo stato attuale solo per Chrome e Chromium in futuro, dovrebbe arrivare anche per Firefox per esempio, ecco. È un'estensione, qui vi lascio anche il link, che vi permette di salvare sul vostro spazio di cofre, cloud di cofre, qualsiasi cosa trovate di interessante navigando in internet. Ecco che magari vi posso mostrare cosa intendo. Ecco, poniamo che questa sia una pagina qualsiasi, tra l'altro l'estensione, una volta installata, è questa, sotto nella pagina dell'estensione di Chrome o Chromium, è elencata così, safe to cofre, perché vi permette, girovagando per il web, di salvare immagini, file, link, testi, qualsiasi cosa voi trovate sul web. Poniamo che questo mail che ho aperto, che vi ho mostrato prima, voglio salvare questo testo, lo seleziono, tasto destro, safe to cofre. Questo testo vi viene salvato come formato testo nel vostro spazio cloud di cofre. Dove lo salva? Lo salva in una cartella predefinita che è safe to cofre. Questa non dovete né cancellarla, né rinominarla, perché questa è una cartella, chiamiamola, riservata, anche se potreste anche rinominarla, ma non è il caso, perché se la rinominate, alla prima volta che riutilizzate quell'estensione ve la ricrea. Quindi questo è proprio un nome predefinito e va lasciato così e finiranno tutti lì. Poi da qui potete smistare voi, come volete, i vostri file, però voi potete navigare tutto il giorno nel web e salvarvi delle parti interessanti, salvarvi delle immagini che vi piacciono, magari ecco questa bella immagine, il logo di cofre, me lo voglio salvare, tasto destro, save this to cofre. Fate clic e lui ve lo salva. Qualsiasi cosa, è anche un link, safe to cofre, tutto. Immagini, video, ripeto, anche, non so io, un mp3 che volete scaricare, volete mandarlo direttamente sullo spazio cloud, safe to cofre, tasto destro. Questa è un'estensione molto pratica, quindi questa qua, safe to cofre. Vi lascio tutte le indicazioni per come fare a installarla, eccetera, eccetera. Il portale web metto per farla da padrone, perché è proprio il posto principale, dove viene gestito l'account, dove vengono gestite le preferenze dell'account, i link, i places di cui abbiamo parlato, le attività, quindi tutto ciò che fate sul portale web viene registrato fra le attività, vedete che ho fatto qualcosa prima di iniziare a registrare il video, viene registrato. Questo è un logo, un giornale delle attività che fate, eccetera, eccetera. Questo è il cestino. Qui tornate alla radice del vostro file system nel cloud, e qui potete gestire quello che volete, creare cartelle, eccetera, eccetera. Qui c'è tutto, nel portale web vedete un bel pezzo di articolone, dove viene descritto tutto che per alcuni, per esempio, formati di video, c'è lo streaming video integrato, nel portale web, un riproduttore musicale, un editor di testo, il versioning come gestito, il versionamento dei file, sì o no, eccetera, eccetera, i link, non link, ecco, i link sono anche una cosa interessante. Se state guardando questo video e nella descrizione del video avete deciso di scaricare questo articolo che vi sto mostrando in questo momento, lo fate tramite un link che ho creato appunto dal mio spazio Cloud Coffre, voi cliccate quel link e potete scaricarvi il file che vi metto a disposizione liberamente pubblico. Ecco, qui c'è spiegato tutto come si fa a creare questi link e come fare a usarli. I link sono visibili qui quando li create, quindi dei link di download, quelli che vi permettono di scaricare ciò che io vi metto a disposizione, rispettivamente si possono creare dei link per ricevere delle cose che altri mi mettono a disposizione, eccetera, eccetera. Ma qui è tutto poi spiegato, sia nel mio articolo, sia nell'help di Coffre stesso. Ok, quindi poi per concludere questo video ho deciso di mettere tre suggerimenti, tre modalità per migrare i propri dati da un altro servizio Cloud. Quindi nel caso in cui voi state già utilizzando un servizio Cloud o state vivendo una situazione come la mia nella quale il mio servizio Cloud chiude, fallisce, mi avvisa che devo migrare le cose perché tra poco mi cancelleranno tutto, devo andare su un altro servizio Cloud, quindi ho scelto Coffre, come faccio da quell'altro servizio a migrare tutto ciò che avevo già salvato su Coffre? Ecco, qui metto tre opzioni possibili, uno è connettersi via WebDAV, tutto spiegato, che cos'è WebDAV è tutto spiegato qua, un'opzione due è usare direttamente l'interfaccia web col drag and drop, perché ecco una cosa che forse non vi ho mostrato è che questa interfaccia web riconosce il drag and drop, che ne so, questo, questo file, dal mio file system locale, drag and drop sull'interfaccia web, ed ecco qua che è già salvato, sull'interfaccia web. Qui potete cambiare anche il tipo di vista, se sono delle foto è più pratica, oppure elenco di file con i dettagli, voilà. Oppure la terza opzione è crearvi una cartella sul vostro PC locale, attivare la sincronizzazione su quella cartella e poi metterci tutti i file che verranno quindi caricati dal client direttamente, automaticamente. Ecco, questo è un po' a chiusura della presentazione di come ci si scrive e le funzionalità che offre questo servizio cloud e naturalmente in fondo anche come arrivarci, come iniziare ad usarlo e come caricare i nostri dati. Inizialmente, caricamento di massa iniziale sullo spazio cloud di questo servizio. Magari una cosa carina anche è proprio la gestione dei file che è molto pratica, quasi come se state usando il vostro file system locale, vedete il file che ho appena caricato, io lo posso anche copiare o tagliare, incollare da un'altra parte, per esempio dico voglio spostarlo nella cartella safe to cough, faccio un cut, quindi lo taglio e vedete che qui il clipboard è molto pratico, questo lo trovo. Ogni cosa che fate, tipo taglia, copia e incolla, vi viene presentato qui, ogni elemento viene presentato qui, quindi se ne facessi anche un altro, vedete, copy, rispettivamente, cut oppure cut anche questo, vedete, vi mette qui gli elementi che sono pendenti per un'operazione di questo tipo, voi tranquillamente vi posizionate da un'altra parte e potete fare per esempio il paste, quindi l'incolla e questi due elementi verranno messi in questa cartella oppure decidete, no, ne ho presi due in sbaglio, per sbaglio ne cancello uno dalla clipboard, quindi dagli appunti come il vostro CTRL-C, CTRL-V sul vostro PC locale e fate solo incolla di quello che vi interessa. Qui abbiamo i due file e qui ne è rimasto uno solo, per esempio, ecco. Voilà, questo è in linea di massima quello che volevo mostrarvi, leggetevi tranquillamente tutte le opzioni che ci sono qua, le funzionalità più importanti, le ho descritte brevemente e potete, diciamo così, secondo me io sono convinto che vi godrete le comodità, il comfort di questo servizio che già allo stato attuale è molto completo e molto facile da usare, appunto è confortevole e solido direi, è affidabile, ripeto, sono diversi mesi, non ancora un anno, ma diversi mesi che lo sto usando e sono soddisfatto finora, molto soddisfatto, sia del servizio clientela, diciamo così, sia proprio della qualità del servizio in quanto tale. Ecco. non vi ho detto tutto delle funzionalità, vi ho fatto vedere veramente un minimo delle funzionalità, ripeto, prendetevi il tempo per navigare nell'interfaccia, per verificare le funzionalità con il mio articolo qua, perché c'è altro di interessante, non vi ho detto tutto, nemmeno tutto di ciò che è veramente interessante. e quindi prendetevi il tempo per giudicare e poi mi direte se non è vero che è un bel servizio oppure no, io dico che è un bel servizio per questo che ve lo presento, spero che anche voi rivedete la stessa conclusione e piacerà anche a voi. Con questo concludo questo secondo video, ciao ciao e vi attendo alla prossima puntata.